Bello ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino Oggi è un giorno davvero speciale Vabbè direte, ok, lo è ogni giorno per te, ce l'ho da ragione Però raga, attenzione perché accadranno delle cose alquanto strane Dei punti interrogativi spariranno, tenetevi pronti Io ragazzi sono a livello 139 al momento come potete vedere da questa schermata Mancano 6045 punti esperienza per raggiungere il livello 140 E per far sì che io arrivi a questo livello adesso Ho giocato la mia mappozza ragazzi, codico lì in alto Andate a giocarla tutti quanti Me la sto spammando ogni giorno, lo so, ci avete ragione ragazzi Perdonatemi, ma davvero siete in tantissima a giocarla E io vi ringrazio infinitamente Bando alle ciance, prendiamo il puzzle segreto E spero che dia l'exp necessaria per il level up Lo spero ragazzi perché potrebbe essere un mega fail, vediamo Ok, ce l'abbiamo fatta Sì Raga, domandina Avete trovato il puzzle segreto all'interno della mia mappa? Fatemelo sapere qua sotto tra i commenti Livello 140 raggiunto Ciò che cosa significa? Che abbiamo tutte le stelle necessarie Per ottenere gli stili bonus di questa stagione Però alt, alt, alt Abbiamo solo due pagine da sbloccare Perché le altre tre si sbloccheranno quest'oggi Si riveleranno quest'oggi Vi chiedo solo una cosa per questo videozzo Lasciare tanti bei mi piace A voi non costa nulla ma sappiate che aiutate tantissimo il canale Quindi raga, eccoci qui Questo è il mio pass battaglia Livello 140 appena fatto Eccole lì le 200 stelle in alta destra Oggi dovrebbero arrivare anche delle nuovissime sfide per il nostro Omni Slash Quindi sì, perché registro questo video? In concomitanza di che cosa? Andiamo, richiamoci qui Sezione ricompense bonus Guardate raga Io non so a che punto vi troviate Ma io ancora non ho sbloccato nulla di questa pagina Niente di niente Abbiamo la pagina 1 e la pagina 2 Andando sotto pagina 3, pagina 4 e pagina 5 Risultano bloccate Ma scorrendo ragazzi Andando a guardare poi lì in basso a destra In arrivo tra 12 ore Chi si fa il calcolo di che ore sono in questo momento Nel momento in cui sto registrando Quindi sì, 12 ore significa che alle 15 ragazzi Tutti questi stili aggiuntivi e quindi bonus si sbloccheranno Scrivetemi qua sotto tra i commenti qual è lo stile bonus che preferite Delle skin che abbiamo in questo esatto momento Io ragazzi da inizio stagione stavo proprio impazzendo per lei La Tsuki 2.0 spirito smagliante Quanto è bella ragazzi Fatemela vedere nella sua interezza totale Dove è andata? Perché è sparita? Io non voglio lo zainetto Voglio lei Ma che combo di colori spettacolare Ma sono davvero fatti bene Allora saliamo Andiamo a sbloccare Chiara che io Per prima cosa sblocchiamo lei Andiamo 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 Raga procediamo così Andiamo subito Velocemente Ma perché mi passa gli zainetti? Voglio vedere prima lui Me ne rendo conto solo ora Ma giusto perché non ho esaminato al 100% questa sezione Quando è stata rilasciata con il pass battaglia Praticamente non è come le season scorse Almeno credo Attenzione perché in questo caso Sbloccando Chiara che io Abbiamo tutto il suo intero set Con degli stili aggiuntivi Guardate lì in alto a destra 3 di 5 4 di 5 5 di 5 Ok Lei comunque ci costa 25 stelle del pass battaglia Aggiuntive Andiamo È la prima ricompensa Ragazzi è la prima ricompensa E già sto andando Oltre le mie aspettative Che bello Madò Delta plano stile capitolo 2 Qui Ascoltiamo anche il piccone Ci siamo Facciamo una review totale Ok Una mazza chiodata ma È parecchio splash Non dimenticare il codico Martex Per sostenere al 100% Questi video mattutini Noi continuiamo Da riaggiornare ovviamente Ogni 14 giorni Riscattiamo tutto E passiamo al secondo item La seconda skin Che belli Che sono sti stili Il suo stile Il suo stile Vabbè Il suo set Non lo conosco neppure per intero Andiamo a sbloccarla Vediamo Ah no 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 Riscatta ricompense pagina bonus 1 Vado così Sì 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 Ok Devo sbloccare È una sorta di ordine Quello che vediamo Ah Doctor Strange È lui Carinissimo Una bella scia Quindi Aspetta Perché È ancora bloccata Devo sbloccarla per ultima Allora A quanto pare è molto speciale La skin che si tiene al centro E vabbè dai Sblocchiamo le altre Andiamo Non mi interessa per il momento Ciao brutto Mamma mia Che bello che è Tutto arancione Tempesta solare Vai 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 La vediamo così Maddo Ragazzi Io ancora non ho utilizzato Sto deltaplano E mi è piaciuto tantissimo Quando guardavo il pass battaglia Lo scoprivo assieme a voi Quella mattinata Vabbè Riscattiamo Riscattiamo A ruota Ed eccola qui Che finalmente Viene resa disponibile Grazie mille Hai fatto un po' troppo La speciale Andiamo 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 Riscattiamo anche lei Bellissima E risa Un po' d'ombra Un po' troppa Sul volto Vabbè Ragazzi Item leggendario Che bello Vediamo qui Pugnale del custode Ascoltiamo Ascoltiamo Oh mio dio Mi sa che lagga un po' troppo No è proprio lo stile Vabbè Andiamo qui E vediamola in questa maniera Non capisco Cosa cambia tra le due Help Cosa cambia Erisa silvestre Oggetto ricevuto Non cambia nulla Vabbè Riscattiamo Questa era la mia prima paginetta Completata Assieme a voi Andiamo giù Pagina 2 E lei la skin principale Quella che dovremmo tenere per ultimo Perché prima sbloccheremo Un bel po' di item Ed eccoci qui Che bello Bababia raga Si sono davvero da fare Però dai Si sono davvero da fare Mi piacciono un sacco Questi elmi Mi piace anche come abbia impostato La season Epic Games Non lo so È tutto stile Daft Punk A partire dai set Vabbè Lasciam stare Riscattiamo Andiamo avanti Andiamo con lei Stile supremo Quindi Ci ricolleghiamo nuovamente A Doctor Strange Ci sta guardando Ragazzi Ci sta proprio guardando Bella stava rappozza Niente male Mi piace l'accostamento dei colori Riscattiamo velocemente Tutto ciò che stiamo guardando Andiamo con immagine Verde veronese Ma Uh Backpack enorme Ragazzi Quante belle Risa così Dai Ma è carinissima Lama immaginaria Uh Non mi ricordo Questo effetto Carinissimo Bene 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 Ok Deltaplano Anch'esso Gigante Origine Nero spazio Vabbè raga Tre stili mi dice Ma saranno gli elmi Cosa sarà No È il suo bundle intero Andiamo Oh Sì caro mio Così mi piaci Con il cubo Kevin Al centro di questo Backpack Non lo so È come Se ci fosse una sorta di stereo Bellissimo Raga guardate lì Come si va a formare Madò Scetro cubico Belli frammenti Del cubo Kevin Che furiescono dal piccone Quando andiamo a picconare Guarda che effetto lì Bellissimo Andiamo avanti ragazzi Ditemi qua sotto i commenti Come vi sta sembrando Questa stagione Si livella Molto facilmente Rispetto a quella precedente Oppure state faticando A livella Che livello siete ragazzi Come vi state trovando Eccoci qui Con Suki 2.0 Lo stile che stavo Desiderando Da quando è cominciata Questa stagione Vi giuro ragazzi Non vedevo l'ora Di sbloccarla Ed è la cosa che ho guardato di più Tra tutte le altre Che mi hanno proposto Andiamo Riscattiamo Questa sarà una bella schermata Ed eccola qui Che colori Incantevole Mi fa impazzire Cara mia Ditemi ciò che volete Ma sarà la skin Che userò maggiormente Molto probabile In questa season Skin che viene proposta Come skin Principale Quindi personaggio Che troviamo all'inizio Del pass battaglia Ma finora Non l'ho calcolata Per nulla E mi dispiace Di questa cosa Concludiamo il tutto Con l'omnispada Che Vabbè Non si vede per nulla Il manico Che abbiamo appena Sbloccato A proposito Non so se già L'ho detto Ad inizio video Ma Oggi dovrebbero uscire Delle nuove sfide Dedicate All'omnispada Quindi ragazzi Attenzione Questa la equipaggio La equipaggiamo Il backpack Lo saltiamo Delta plano Vabbè Sì Andiamo Andiamo così Equipaggiamo anche lei Bene ragazzi Completata Adesso aspetto Solamente la pagina 3 4 E 5 Vediamo che cosa Anda a proporci Ma già lo sapete Già lo sapete Noi Se negozi oggetti Il punto esclamativo È apparso E noi ci clicchiamo su E questo è lo shop di oggi Vediamo cosa propongono Lei arriverà domani Domani Meno di 24 ore Allora abbiamo Chloe Kim Partiamo dal basso Andiamo su con Silk Sonic Ed eccole qui Le sezioni Giornaliere Pijama patti Jones il naufrago Che tanto tanto apprezzo Ogni volta che lo vedo Ho in testa il trailer Dove shotta Il bus con la flare gun E boom 99 kill Vittoria reale Non cominciare adesso Piccolo showcase Con il nuovo stile Di Zugi 2.0 Raga Andiamo Tempo da Mimi Ci sta benissimo Con questa skin Ci sta davvero benissimo Bello 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 Che figata Il mio idolo 200 V-Bucks Ragazzi Un emote che ho utilizzato Davvero tantissimo Per attendere Qualsiasi tipo di evento In game Scazzottata Altri emote Da 200 V-Bucks Ti si addice Zuki Ti si addice Beardy pilota Leader squadra Delle coccole Che bello Ragazzi Un'icona del game Un'icona leggendaria Da 2000 V-Bucks Abbiamo altre cose qui Vi faccio vedere Velocemente Ok Beer Force 1 È enorme Raga Davvero enorme In gioco 1500 V-Bucks Oh Balenciaga Is back Unexpected Che bel background Ma ragazzi Le skin Proposte nello shop La prima volta che uscirono Avevano questo background così Questo sfondo animato Non le ricordo Non le ricordo Allora Eccoci qui Con i vari bundle Vediamo velocemente Quanto vengono a costare Perché Oh Sì 1800 Anche questo Anche il secondo Dovrebbe costare 1800 Teoricamente sì 1800 Noi ci becchiamo In un prossimo video mattutino Ogni giorno Alle 7 Tranne il sabato E la domenica Alle 8 Un saluto Da Martex E come al saluto Un bel Sia brothers